Raga, io mi sono rotto il cazzo della gente che viene ai spettacoli miei, sono tutti coatti. Io voglio essere un attore drammatico, io voglio essere Gifuni. Ma perché non posso essere Gifuni? Eh, in dove sta scritto? Vuoi fare Gifuni? Allora due cose. La prima, la panza, me la devi buttare giù e secondo me devi leggere Pasolini in pubblico. Panza e Pasolini, me lo devo scrivere, panza e Pasolini. Vabbè, Nando, va benissimo sto fatto di Gifuni, eh, intendiamoci. Però qui, mi raccomando, eh, voglio il vecchio martellone. Questo zaccheo simpatico, ricordiamocelo, ragazzi. Panza e Pasolini.